Gli ultimi dati disponibili dicono che in Friuli, Venezia e Giulia il ricorso al super bonus ha interessato il 4,5% delle unità abitative presenti in regione. Nel nord-est la percentuale riconducibile all'area territoriale più a est del paese è la più bassa. A fronte di 13.660 osservazioni depositate presso l'Enea, l'indicenza di questo numero sull'intero stock di unità abitative presenti in regione è stato del 4,5%. Il dato medio italiano è del 4,1%. La spesa in capo allo Stato per ogni intervento effettuato è tra le più basse del paese. In Friuli, Venezia e Giulia l'investimento medio ha raggiunto i 212.494 euro. La media nazionale si è attestata su 247.531 euro. In linea generale possiamo affermare che fino adesso i proprietari di immobili in Friuli, Venezia e Giulia non sono stati tra i più sollerti d'Italia a beneficiare di vantaggi fiscali legati al super bonus. E il valore economico medio degli interventi portati a detrazione è stato tra i più contenuti del paese. Tuttavia, il nostro giudizio su questa misura rimane molto critico. Ha favorito i ricchi a discapito di meno abbienti. Insomma, fino adesso è stato un provvedimento dai contorni surreali che si è comportato come un Robin Hood al contrario. Ricordate l'eroe che rubava i ricchi per dare ai poveri? Con il 110% invece è accaduto l'esatto opposto. in questo modo di poter fare perfectly. otr.